Una ragazza di 23 anni è stata violentamente aggredita dal suo compagno ad Eboli in un'abitazione in via Polidoro. All'arrivo dei carabinieri agli ordini del comandante Luca Geminale, la donna è restata confusionale e con evidenti segni di violenza sul corpo. Dalla ricostruzione dei fatti svolta dagli inquirenti che hanno ascoltato la ragazza, sembra che il suo compagno abbia sfondato la porta per poi scagliarsi sulla 23enne picchiandola con violenza e rubandole il telefonino prima di andare via. L'uomo, un 38enne ebolitano con alcuni precedenti penali, è stato individuato e bloccato dai carabinieri. Aveva ancora il cellulare della 23enne che intanto è stata soccorsa e ricoverata all'ospedale di Eboli in prognosi riservata. L'uomo è stato arrestato per lesioni personali gravate, rapina e violazione di domicilio.